Benvenuti a una nuova lezione della vera classe a casa Oggi avremo tre lavori Un primo lavoro di 12 minuti E' una sorta di amolap Nel quale dovrò continuare a ripetere Una sequenza di esercizi Partendo con 8 ripetizioni E alla fine di ogni round Aumentando di 2 ripetizioni Quindi il secondo round saranno 10 Il terzo 12 e così via Si parte con 8 ripetizioni di 2 8 push up 8 affondi incrociati 8 table pull up O con un TRX 8 ripetizioni Se non ho un TRX o degli anelli Lo faccio al tavolo Quindi mi pongo sotto un tavolo E porto il petto In direzione del piano di appoggio Il secondo lavoro è un minimum Nel quale dovrò effettuare 40 secondi di lavoro E 20 di ripeto D plank su due appoggi Plank laterale destro Reverse plank Leg resist Side plank sul sinistro E porto il plank Il terzo lavoro invece è un ambro Quindi in 9 minuti di lavoro Dovrò fare più giri possibili Di 10 pistol squat Se sono capace A corpo libero Oppure con l'aiuto di un sostegno Scendo e risalgo Alternati 12 up and down E terzo minuto 14 Jumping jack Quando ho finito ricomincio Massimi giri 9 minuti Grazie a tutti